Popolari Glocalizzati Notizie Direttore Maurizio Compagnone Buongiorno dalla redazione, a due giorni dalla strage nella redazione del Charlie Hebdo i responsabili sono ancora latitanti, i fratelli Quachy identificati dalle forze speciali grazie ad un documento ritrovato in un'autovettura, ieri erano stati visti al nord di Parigi in una stazione di servizio, tutti gli uomini della sicurezza impegnati nella ricerca hanno rastrellato strade e boschi della zona rivoltando interi villaggi ma senza esito dalle informazioni diffuse dai media francesi ancora sembra che la polizia brancoli nel buio secondo gli inquirenti uno dei due fratelli accusati dell'attacco contro Charlie Hebdo si sarebbe recato nello Yemen nel 2005, poi in Iraq nel 2008 prima di rientrare in Francia e finire sotto processo lo ha detto alla CNN il ministro degli esteri della giustizia francese secondo i medi americani Quachy sarebbe stato addestrato in quei territori dall'ACAP il ramo di Al Qaeda nella penisola arabica intanto i sospetti e arrestati sono nove mentre in Francia e in tutto il mondo continuano le manifestazioni di piazza e sul web con lo slogan Je suis Charlie ieri sera la Tour Eiffel si è spenta per qualche minuto in segno di lutto ieri il presidente americano Barack Obama si è recato all'ambasciata francese di Washington per porgere le condoglianze per le vittime della strage di Parigi il presidente ha osservato un minuto di silenzio poi sul libro delle condoglianze ha scritto siamo accanto ai nostri fratelli francesi per assicurare che giustizia sia fatta e il nostro modo di vivere sia difeso a quanto riferito dal ministro degli esteri italiano Paolo Gentiloni invece il governo italiano ha fatto e sta facendo tutto il necessario per garantire la sicurezza degli italiani ma che questo elimini la minaccia terroristica non è vero come abbiamo visto a Parigi con la strage nella sede di Charlie Hebdo lo ha detto il ministro degli esteri osservando che se un attacco viene condotto da uomini addestrati con armi da guerra come accaduto nella capitale francese non sempre è scontato che le pattuglie della polizia possano fermarlo in chiusura cambiamo argomento Egitto al voto per il rinnovo del Parlamento le tornate elettorali si terranno tra il 22 marzo ed il 7 maggio le date sono state annunciate dal presidente dell'alta commissione elettorale Aynman Abbas in una conferenza stampa al Cairo questa era l'ultima notizia l'informazione torna alle 14.30 circa vi auguro una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti